Buongiorno a tutti, oggi andiamo a leggere la favola di Biancaneve. Una volta, in inverno inoltrato, mentre i fiocchi di neve cadevano dal cielo come piume, una regina cuciva seduta accanto a una finestra dalla cornice d'ebano. E mentre cuciva e alzava gli occhi per guardare la neve, si punse un dito e tre gocce di sangue caddero nella neve. Il rosso era così bello su quel candore che la pensò tra sé. Avessi un bambino bianco come la neve, rosso come il sangue e nero come il legno della finestra. Poco tempo dopo diede alla luce una bimba, bianca come la neve, rossa come il sangue e con i capelli neri come l'ebano. E per questo la chiamarono Biancaneve. E quando nacque, la regina morì. Dopo un anno, il re prese di nuovo moglie. Una donna bella, ma orgogliosa. Non poteva tollerare che qualcuno la superasse in bellezza. Possedeva uno specchio e quando vi si specchiava, diceva Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Specchio fattato, in questo castello hai forse visto aspetto più bello? E lo specchio rispondeva, è il tuo, regina, di tutto il più bello. Ed ella era contenta, perché sapeva che lo specchio diceva la verità. Ma Biancaneve cresceva, diventando sempre più bella e quando ebbe sette anni era bella come la luce del giorno e più bella della regina stessa. Una volta che la regina la interrogò e lo specchio rispose, specchio fattato, in questo castello hai forse visto aspetto più bello? Lo specchio rispose, il tuo aspetto qui di tutto è il più bello, ma Biancaneve dalla chioma corvina è molto più bella della regina. All'udire queste parole la regina li bì e sbiancò per l'ira e per l'invidia. Da quel momento in poi la sola vista di Biancaneve la sconvolgeva tanto che la odiava. Invidia e superbia crebbero a tal punto in lei che non le lasciavano più pace né giorno né notte. Allora chiamò un cacciatore e disse, conduci la bambina nella foresta selvaggia, non voglio più vederla, uccidila e portami i polmoni e il fegato come prova della sua morte. Il cacciatore obbedì e condusse Biancaneve lontano, ma quando estrasse il coltello per trafiggere il suo cuore innocente, ella si mise a piangere e disse, ah caro cacciatore, risparmiami la vita, me ne andrò nel bosco e non farò mai più ritorno a casa. Ed ella era tanto bella che il cacciatore ne ebbe pietà e disse, va pure, povera bimba, le bestie feroci divoreranno ben presto. Il tuo corpo pensava, ma sentiva che gli si era levato un grosso peso dal cuore, non dovendola più uccidere. E siccome proprio in quel momento arrivò di corsa un cinghialetto, lo sgozzò, gli tolse i polmoni e il fegato e li portò alla regina come prova. Ella, nella sua bramosia, li fece cucinare sotto sale e li divorò, credendo di mangiare i polmoni e il fegato di Biancaneve. Intanto la povera bambina era tutta sola nella grande foresta e aveva tanta paura che temeva anche le foglie degli alberi e non sapeva cosa fare per porsi in salvo. Allora si mise a correre e corse sulle pietre aguzze e fra le spine. Le bestie feroci le passavano accanto, ma senza farle alcun male. Corse finché le ressero le gambe. Nella casetta ogni cosa era minuscola, straordinariamente linda e aggraziata. C'era un tavolino ricoperto da una candida tovaglietta e apparecchiato con sette piattini. Ogni piattino aveva il suo cucchiaino. Sette coltellini, sette forchettine e sette bicchierini. Lungo la parete, l'uno accanto all'altro, c'erano sette lettini, coperti di candida e lenzuola. Biancaneve aveva tanta fame e tanta sete che mangiò un po' di verdura e di pane da ciascun piattino e beve una goccia di vino da ogni bicchierino, poiché non voleva portare via tutto a uno solo. Poi, dato che era tanto stanca, si sdraiò in un lettino, ma non ce n'era uno che le andasse bene. Questo era troppo lungo, l'altro era troppo corto. Finalmente il settimo fu quello giusto. Vi si coricò, vi si raccomandò addio e si addormentò. Quando fu buio, arrivarono i padroni di casa. Erano sette nani che estraevano i minerali dai monti. Accesero le loro sette candeline e, dopo arrivati alla casetta, fu tutta illuminata. Si accorsero che era entrato qualcuno, perché non era più in ordine come l'avevano lasciato. Il primo disse Poi il primo si guardò intorno e vide che il suo letto era un po' schiacciato e disse Chi ha schiacciato il mio lettino? Gli altri arrivarono di corsa e gridarono Anche nel mio c'è stato qualcuno. Ma il settimo, quando guardò nel suo lettino, vi scorse Biancaneve addormentata. Allora chiamò gli altri che accorsero e, gridando di meraviglia, presero le loro sette candeline e illuminarono Biancaneve. Ah, Dio mio, addio mio, esclamarono, che bella bambina. E la loro gioia fu tale che non la svegliarono, ma la lasciarono dormire nel lettino. Il settimo nano dormì con i suoi compagni, un'ora con ciascuno, e la notte passò. Al mattino, Biancaneve si svegliò e, vedendo i sette nani, si impaurì. Ma essi le chiesero con gentilezza, come ti chiami? Mi chiamo Biancaneve, rispose. Come hai fatto ad arrivare fino alla nostra casa? Chiesero ancora i nani. Ancora allora ella si mise a raccontare che la sua matrigna voleva farla uccidere, ma il cacciatore le aveva risparmiato la vita ed era ora ella libera di andare dove voleva. I nani dissero, se vuoi provvedere alla nostra casa a cucinare, fare i letti, lavare, cucire e fare le calze e tenere tutto in ordine ben pulito, puoi rimanere con noi e non ti mancherà nulla. Biancaneve promese che avrebbe fatto tutto ciò e tenne in ordine la loro casetta. La mattina i nani andavano nei monti in cerca di minerali e di oro. La sera ritornavano e la cena doveva essere pronta. Durante la giornata la fanciulla era sola e i nani la misero in guardia dicendole «Fai attenzione alla tua matrigna, farai in fretta sapere che tu sei qui, non aprire a nessuno». Ma la regina, credendo di aver mangiato il fegato e i polmoni di Biancaneve, non pensava ad altro se che ella era di nuovo la prima più bella donna del reame. Andò avanti allo specchio a chiedere «Specchio fatato, in questo castello hai forse visto aspetto più bello?» E lo specchio rispose «Il tuo aspetto qui di tutte è il più bello, ma lontano da qui, in una casina di sette nani, piccina piccina e Biancaneve dalla chioma corvina molto più bella della regina». La regina inorridì, poiché sapeva che lo specchio non mentiva e capì che il cacciatore l'aveva ingannata e che Biancaneve era ancora viva. E siccome lo specchio le aveva rivelato che la bambina si trovava tra i monti, presso i sette nani, si mise a pensare nuovamente a come fare per ucciderla, perché se non era la più bella in tutto il paese, l'invidia non le dava requie. Pensa e ripensa, si tinse il viso, si travestì da vecchia merciaia, riuscendo a rendersi perfettamente irriconoscibile. Così camuffata passò i sette monti e arrivò fino alla casa dei sette nani. Bussò alla porta e gridò, «Roba bella, comprate, comprate!» Biancaneve diede un'occhiata fuori dalla finestra e disse, «Buongiorno, buona donna, cosa avete da vendere?» «Roba buona, roba bella», rispose la vecchia, «stringhe di tutti i colori». E così dicendone tirò fuori una seta variopinta e gliela mostrò. «Questa brava donna posso lasciarla entrare», pensò Biancaneve, a buone intenzioni. Aprì la porta e si comprò la stringa colorata. «Aspetta, bimba», disse la vecchia, «come se conciata, vieni per una volta, voglio allacciarti io come si deve». Biancaneve non sospettò nulla di male, le si mise davanti e si lasciò allacciare quella stringa nuova. Ma la vecchia strinse tanto e così rapidamente che a Biancaneve mancò il respiro e cade a terra come morta. «Finalmente la tua bellezza è tramontata», disse la perfida donna, e se ne andò. Poco dopo, a sera, ritornarono i sette nani, come si spaventavano nel vedere la loro cara Biancaneve distesa a terra, immobile, come se fosse morta. La sollevarono e, vedendo che aveva la vita troppo stretta, tagliarono la stringa. Allora ella incominciò a respirare a fatica. Poi, a poco a poco, riprese vigore. Quando i nani udirono ciò che era accaduto, dissero «la vecchia merciaia non era altra che la regina. Sta in guardia, non lasciare entrare nessuno, mentre noi non ci siamo». Ma la regina, cattiva, appena a casa, andò davanti allo specchio e domandò «Specchio fatato, in questo castello hai forse visto aspetto più bello?» E lo specchio rispose «Il tuo aspetto più di tutte è quello più bello, ma lontano da qui, in una casina di sette nani, piccina piccina, è Biancaneve dalla chioma corvina molto più bella della regina». All'udire queste parole, il sangue le affluì tutto al cuore, dallo spavento, poiché vide che Biancaneve era tornata a vivere. Così si rimise nuovamente a pensare come potesse sbarazzarsene e pensò di utilizzare un pettine avvelenato. Quindi si travestì e prese nuovamente le sembianze di una povera donna, del tutto diversa dalla precedente. Però passò i sette monti e giunse alla casa dei sette nani, bussò alla porta e gridò «Roba bella, comprate, comprate!» Biancaneve diede un'occhiata fuori e disse «Non posso lasciare entrare nessuno!» Ma la vecchia rispose «Guarda, guarda un po' che bei pettine!» Tirò fuori quello avvelenato e glielo mostrò. Alla bambina piacque tanto che si lasciò raggirare, aprì la porta e lo comprò. Poi la vecchia disse «Lascia che ti pettini!» Biancaneve non sospettò nulla di male, ma come la vecchia le infilò il pettine tra i capelli, il veleno agì e la fanciulla cade a terra come morta. «Finalmente è finita per te!» disse la vecchia e se ne andò. Ma per fortuna era quasi sera e i sette nani stavano per ritornare. Non appena videro Biancaneve distesa a terra come morta, pensarono subito a un nuovo imbroglio della cattiva matrigna, si misero a cercare e trovarono il pettine avvelenato. Come l'ebbero tolto Biancaneve si riebbe e raccontò ciò che le era accaduto. Allora essi le raccomandarono ancora una volta di stare attenta e di non aprire la porta a nessuno. A casa la regina si rimise davanti allo specchio e disse «Specchio fatato, in questo castello hai forse visto aspetto più bello?» Come al solito lo specchio rispose «Il tuo aspetto qui di tutte è il più bello, ma lontano da qui, in una casina di sette nani, piccina, piccina, è Biancaneve dalla chioma corvina molto più bella della regina». A queste parole ella rabbrividì e fremette per la collera, poi gridò «Biancaneve deve morire, dovesse costarmi la vita». Andò in una stanza segreta dove nessuno poteva entrare e preparò una mela velenosissima. Di fuori era così bella, rossa, che invogliava solo a vederla, ma chi ne mangiava un pezzetto doveva morire. Quando la mela fu pronta, ella si tinse il viso e si travestì da contadina. Così camuffata passò i sette monti e arrivò fino alla casa dei nani. bussò, Biancaneve si affacciò alla finestra e disse «Non posso lasciare entrare nessuno, i nani me l'hanno proibito». «Non importa», rispose la contadina, «venderò io stessa le mele». «Tieni, voglio regalartene una». «No», disse Biancaneve, «non posso accettare nulla». «Hai forse paura del veleno?» disse la vecchia. «Facciamo così, tu mangerai la parte rossa e io quella bianca». Ma la mela era fatta con tanta arte che soltanto la parte rossa era avvelenata. Biancaneve desiderava tanto la bella mela e, quando vide che la contadina ne mangiava un po', non poteva più trattenersi e allungò la mano per farsi dare la sua metà. Ma al primo boccone cadde a terra morta. Allora la regina disse «Questa volta nessuno ti risveglierà». Tornò a casa e domandò allo specchio «Specchio fatato, in questo castello hai forse visto aspetto più bello?» Finalmente lo specchio rispose «È il tuo, regina, di tutto il più bello» e il cuore invidioso finalmente ebbe pace, se ci può essere pace per un cuore invidioso. A sera, quando i nani tornarono a casa, trovarono Biancaneve distesa a terra. Dalle sue labbra non usciva respiro. Era morta. La sollevarono, guardarono se vi fosse qualcosa di velenoso, le slacciarono le vesti, le pettinarono i capelli, la lavarono con acqua e vino, ma inutilmente. La cara bambina era morta e non si ridestò. La distesero allora in una bara e si sedettero accanto tutti e sette e la piansero per tre giorni interi. Poi volevano solterrarla, ma era ancora così fresca, le sue guance erano così belle rosse da farle sembrare ancora viva. Allora dissero «Non possiamo seppellirla nella terra nera» e fecero fare una bara di cristallo, perché la si potesse vedere da ogni lato. Ve la deposero. Vi mesero sopra il suo nome a caratteri d'oro e scrissero che era la figlia del re. Poi esposero la bara sul monte e uno di loro vi rimase sempre a guardia. Anche gli animali vennero a piangere Biancaneve, prima una civetta, poi un corvo e infine una colombella. Biancaneve giacque per molto, molto tempo nella bara, ma non si decompose, sembrava che dormisse, poiché era ancora bianca come la neve, rossa come il sangue e nera come l'ebano. Ma un bel giorno un principe capitò nel bosco e si recò a pernottare nella casa dei nani. Vide la bara di Biancaneve sul monte e lesse ciò che era scritto a caratteri d'oro. Allora, disse ai nani, lasciatemi la bara, vi darò ciò che vorrete in compenso. Ma i nani risposero, non la cediamo per tutto l'oro del mondo. Allora regalatemela, dissegli, non posso vivere senza vedere Biancaneve, voglio onorarla e osseguarla come colei che mi è più cara al mondo. A queste parole i buoni nani si impietosirono e diedero la bara. Il principe ordinò ai suoi servi di portarla sulle spalle. Ora avvenne che essi inciamparono in uno sterpo e per l'urto il pezzo di mela avvelenata che Biancaneve aveva inghiottito le uscì dalla gola. Ella tornò in vita, si mise a sedere e disse, addio, dove sono? Sei con me? rispose il principe pieno di gioia. Le raccontò che era avvenuto e aggiunse, ti amo al di sopra di ogni cosa al mondo, vieni con me nel castello di mio padre, sarai la mia sposa. Biancaneve acconsentì e andò con lui e le nozze furono allestite con gran pompa e splendore in tutta la reggia. Ma alla festa fu invitata anche la perfida madrigna. Indossate le sue belle vesti, ella andò allo specchio e disse, specchio fatato, in questo castello hai forse visto aspetto più bello? Lo specchio rispose, qui sei la più bella o regina, ma molto più bella è la sposina. All'udire queste parole la cattiva donna si spaventò e il suo affanno era così grande che non poteva più dominarsi. Da principio non voleva più assistere alle nozze, ma l'invidia la tormentò al punto che dovette andare a vedere la giovane regina. Entrando vide che non si trattava ad altri che di Biancaneve e impietrì per l'orrore, ma sulla braccia erano già pronte due pantofoli di ferro. Quando furono incandescenti, gliele portarono ed ella fu costretta a calzare le scarpe roventi e a ballarvi finché non le si bruciarono miserabilmente i piedi e cadde a terra morta. E vissero tutti felici e contenti. Questa era la favola, questa volta è durata un po' di più, spero comunque vi sia piaciuta. Vi mando un bacio grande e alla prossima!